eccoci ora ragazzi sul canale d'animaggio siamo al gameplay numero 23 di god of war ragnarok parte 23 e dobbiamo inseguire gioco che è uscito il 9 novembre e siamo ormai al 4 dicendo stiamo inseguendo e là c'è già un percorso che però non si può liberare ok su dobbiamo attraversare prima che ha fra altri squarci del regno quello secondo me si può beccare fatto che riesce ad abbattere quel pezzo di muro con la tua nuova lancia dai ora vorrei beccare sto stronzone qua ma che roba bastardo di merda credibile da alto su rena niente non si può colpire probabilmente si ma non in questa maniera allora su no ok ti ha chiesto di non di liberarla no ma lavori per lui quindi la femmina è un lupo un lupo gigante cosa ti abbia promesso non fidarti no ma qualcosa che mi serve è difficile da spiegare ma dai Kratos su non è alto qui chi l'è no ma a sinistra in arrivo mori ammazzato energia speciale visto qua niente continuiamo se li fa schialfi attenzione non abbiamo la destra di Mimir arte muraria ok eeeh l'uama seina ah forse si dovete tre inchieme che c'hai che c'hai che c'hai oh oh ah è stato salvaggio ben striscia la riscau wow oh 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 ma l'abbia peggio una guerra è così è complicato fatti i cazzi tuoi scherz è lungo questo mi fa piacere no ma che piacere ancora uno squarcio del regno garma si è dato da fare forse so come freia tieni lontani i nemici dimmi quando sei pronto alla grande la tariffa 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 che tal? c'è male un titolo preferire le via stano c'è male c'è male c'è male c'è male c'è male speciale manico dell'armonia curativa questo marico si tratta bene al coloro che confinano le proprietà di in combattimento si dice che quello è l'utilizzatore ma che al contempo abbassi la sua difesa dimmi che cosa facevi ad Asgard? traducevo cose per Odino ha trovato una maschera alla quale è collegato un raggio magico è tutto un po' complicato già ma lì ho trovato persone della mia età amici almeno spero che lo siano ancora non puoi fidarti di chi è fedele a Odino non è sempre male fidarsi della gente comprometta la ragione Atreus non sono stanco di sentirmi solo Atreus cerchiamo di capire come funziona questo cancello ok? oh il cacello aperto blocca l'ingranaggio le frecce sigillo sono inutile messeria cosa dobbiamo fare? hai qualche idea? se usassimo le mie nuove frecce concatenano gli elementi ok ma ovviamente è bloccato così eh no non così credo che ci servirà più di un sigillo lancia lascia il gel lancia lancia lascia contro i sigilli collegati per salire il gel e congelare ah ok ok allora dovevo prima ho capito niente le frecce sigillo sono inutili qui sono inutili e l'ho usata chi è? bonaldo a sinistra? da chi? ma la pepin mi sa quanto ci va arrivare a sto cazzo di lupo che lupo? devo andare avanti di qua eccolo ah è laggiù è un attrico di The Last Guardian da lontano sei congelato stai bene? ancora per foto ma vanno tu speciale avanti dobbiamo fermarti è tutta colpita ma per lei sta a dire cosa sto facendo? è lì? oh no treus togliti madonna che non va? è lì no? non va? ma cos'è lì no? non va? dobbiamo continuare di qua allora? probabilmente ah ok da qua angura speciale speciale allora adesso da qua c'è gente che passa di sopra forse da qui speciale gool gool ok adesso di qua possiamo tornare indietro energia che qua speciale molto bello è già morto quello speciale indiota molto bene qua abbiamo altre cose e poi da qua ok ongo nessuno è solo finché di notte me lontano al fin non dormi pensare a lui e penserai a lei ancora ma solo dia fa lo so aspetta ma è qui chi ok ok lobo ok bravo va tutto bene calmati calma fermo piccolino piccolino ma dove è andato ma dove è andato che presto cacazzo qua oh oh ah ma vangu oh abbiamo l'energia bravo treus speciale a voi morì mortale fortissimo questo cazzo è oh la madonna mi ha ammazzato due volte questa ma questa mazza chiodata niente ampiesenta forse dovevo usare l'ame del caos non questo è che l'altro sa che collabora è che l'altro sa che collabora vedi spiasenta eh e dai treus aiutami spiasenti eh niente spiasenti no cristo e vabbè va cazzo no possibile ma non ne vuoi saper da morire ah vabbè 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 e il viken viken morti forse un po' più più forti rispetto alla loro controparte vivente dal momento che la maggior parte ha iniziato a brandire mazze per chiunque cerchi di ostacolarli la morte li avrà anche resi forti ma spesso e volentieri chi attacca con un'arma enorme lascia aperture per avversare più veloci dovremmo essere in grado di schivare la mazza di questa creatura in base al tipo di colpo quando colpisce orizzontalmente cerca di schivare all'inietro mentre quando colpisce verticalmente ti questione di schivare lateralmente se l'attacco dall'alto di un elviken non va a segno la sua mazza si incastrae dal terreno riusciendolo vulnerabile per un certo periodo di tempo bello speciale e adesso vi da l'energia del cazzo non la fa al culo va abbiamo consumato la cosa con la treus ma se io ira possiamo potenziare molto bene lancia draupnir livello 4 ok e invece sedersi su a treus non abbiamo no non era da qua che si facevano gli oggetti vabbè non importa volevo fare un'altra di quelle pietre verdi della resurrezione ma non mi ricordo come si fanno allora se onì non vuole davvero evitare il ragnarok allora siamo d'accordo per proteggerla che domande fa sto ragazzino non lo fa il coglione sono morti oh già ben d'accordo la testa padre oh a cristo cazzo vabbè adesso ripartiamo con un po' di energia forza possiamo passare di qua che ho fatto proprio difficile 8 è qua il gioco sarà che stiamo anche andando avanti verso una probabile conclusione chi sa avendo fatto poche secondarie non puoi farlo con qualche altra attra e questi che ci fanno qui sono morti oh già ben detto oh è morto cadendo oh lo stavo a tirare le frecce sono morti subito ma non è la scena non è la scena la roba del genere è buon acqua gioca a scasella chi è questo Oh, madonna Oh, no, no, no Ma che cazzo, spari Atreus Oh, e basta No In arrivo No, vai, va Ah, è impossibile, è impossibile Ah, funzionato Solpendo il colgo casualmente No No, no No, 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 no 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 Ma infatti magari Giù la cascatella Oh Oh, e basta Oh, vabbè ho capito ma Il nostro figlio è uno stronzo Madonna di Dio Senta di una madonna di Ah, il suo reo Oh, la madonna E ci sto E però la para Eeeh A Natale Figlio di puttana Bastardo Maledetto No Devo combattere con più Strategia Oh 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 Eeeh 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 Aoka! Dietro di te, in arrivo! Aoka! Aoka! Ah f***, Pulo! Ah f***, Pulo! Aoka! Aoka! non muori merda no cazzo ma sono andato via porca puttana che merda l'avevo così ammazzato figlio di puttana che cristo cazzo ma treus combatti meglio però perché ha solo quelle trecce lì a treus o poi mai ok questa li fanno forse più tanto no 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 dai 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 Adesso la mattiavo, vai! Ah, uah, di merda! Ah, donna del perlusto! Ah, vai! A cagare, stronzo! Viandante di Hell! Un viandante che ho continuato a seguire la falsa via di Odino anche dopo la morte. Ho fatto un'idea davvero geniale. I viandanti di Hell sono obbligativi e i loro controparti viventi cercheranno di caricarti lasciandoti poco tempo per sfruttare attacchi a distanze efficaci. Uoviterò allora l'armatura rimanendo vicino e schivando i loro attacchi, ma quando inizia da caricare il loro schianto dall'alto fa in modo di allontanare. Ma se non ti stai preparando per il Ragnarok, a che serve la lancia? Ecco, io ho parlato. Tocca a te. Non siamo uguali. Non sono tuo padre. Stai evitando la domanda? Noi ve lo chiamo mo' sta merda qua. Credo sia invulnerabile alle frecce sigillo. Cosa dobbiamo fare mo'? Puttana, troia. Possibile di sempre perdere tempo a questi cazzo di enigmi in sto gioco. Dio fa. Madonna. Al legno lassù? Al legno lassù? Ah, addirittura? Dici? Ah, d'accordo. Speciale. Ma non basta mai. Aspetta, vediamo. Una stessa pagliacciata. Ok. Ma dovrebbe essere bloccato. No. Le frecce sigillo sono inutili qui. Au! I sigili non si attaccano alla grata. Proviamo con qualcos'altro. Così non funziona. Quindi? Puoi usare la ruota per esporre l'ingranaggio o metterci sopra qualche sigillo e poi calarlo. Non si attaccava. Non sarebbe male come idea. Au! Le frecce sigillo sono inutili. Ma che cazzo è? Non possiamo mai fare una vita del genere? Reus, manca te però. Dove cazzo spari? Ah, non ho capito. Allora... Ehm... No, allora... Ok... No, era giusta così. Ok. Allora... Due. Adesso... Mi eravamo quasi, porca... Le frecce sigillo sono inutili Oh la Ma va fa' il culo va Tre ore Sto cazzo di lupo Vuole venire fuori o no Madonna Basta sta parte è di poco odiosa Non prometto nulla Ma cercherò di non ucciderlo Il pelino che carino Ci siamo eh ragazzi Beh più o meno 300 metri ancora Oh la E non vuole Lame del caos Dove devo Andi per ieri Ma che ferba Che fa' Allora In avanti non si va Ma nella parete c'è un incavo E però si può passare anche di qui Per un'altra cosa Ah no Qua è solo per l'oggetto Ok Speriamo sia un oggetto speciale Pezzi di argento Sarebbe solo per quello Farci perdere del grosso tempo Allora La tua lancia ci starà Ma dio fa' Se bisogna per forza Spararla dal lato Se no non va Mi dico cosa cambia Madonna Va bene Togli Ti va Tre Deo fa' Di abbassare sto lupo Ha rotto il cazzo Fate fur Questi lupi Volerli bene Scherza Sferla un'attacca Sferla la fighi Colli con Drupnir Che affonda l'amico Premere uno Per colpi aggiuntivi Speciale Ok Qua Mamateina Suma ancora Bele si Avanti Madonna Qual è il tuo piano? Lo elaboro strada facendo Strada facendo Non puoi ingannare Odino Per ora funziona Non sei Chissime Chissime Stai presenti Hai dato Trico Trico Si scherza Che farai? Proverò a domarlo Domarlo? Certo Ho già domato Ma che cazzo Stai a D Vedo mare Basta Basta Che lunga sta parte Ma basta 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 E se te lo so E se te lo so Vedete rubacchiotto l'uva acqua buon mattina daniele o calmi eh ma la madonna creus ma cosa ti faccio la trasformazione odino ti ha insegnato a controllarla no non ci affideremo ai suoi insegnamenti d'ora in poi si fa a modo mio in modo di kratos sarebbe giusto eh far incassare kratos che non so vai per tutti ha ucciso zeus d'altro canto d'altro canto ma basta non lo fa fai fuori valla fa valla di via e chale ok ok c'è l'inito di essere legione non l'hai fatta apposta vero chi è che non si fida ora ho esagerato è solo che pensavo avrebbe funzionato pazienza troveremo un modo credo che dobbiamo raggiungere quella sporgenza ma come c'è sempre un modo l'hai visto perché non ci ho pensato la soluzione non è sempre l'hai visto kratos il circe in se in arrivo a destra l'hai visto l'hai visto l'hai visto l'hai visto ma vai morì ammazzata la morì ammazzata meglio quello che pensi voglia dire ma possiamo provare abbiamo il potere di evitare i danni causati dalla creatura e lo useremo ok la radura di silenzio la radura silenzio è la pacchetta è la pacchetta è la pacchetta ragione oh mio cracos oh mio dio sapevo io che andavo a piedi tutto in uno sconto meglio non carciò le valle oh ma fa culo figlio di puttana no all'entra grazie ah all'entra è un ingrassi incredibile da allo serena Deus vedi che è uno stronzo sto cagno lì oh il mio caglio che caglio neus non vedi che è fuori controllo show yamana neusone c'è di immortale sto cane però catenelle aia speciale lo facciamo adesso speciale oh madonna speciale speciale aia mazzata lo vogliono di me nel via nel via nel via oh che è non ci lasci scesa che ha il fuè figlio ma le ne è in tarte no bastardo 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 no e mi gusta anche se non è piacente che se non è piacente la mia piacente energia energia no senza pietà senza pietà oh la mia piacente perde a morire ah oh 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 spesa hai passi da pianista il cane eh giù oh 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 figlio di mutana che li siamo ai boss fight comunque la mia energia qua ma che cosa è andato guard si è rialzato abbiamo recuperato un po' oh è il sesso calma eh oh no che bocca ruotolo ruotolo ma le ne è in tante asenza cosa succede si come hai fatto questa cosa uno due no che ca che ca perdita cazzarò 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 ora cazzarò cazzarò basta garm crilio famigli uscente uff è un lupo mio no devi fare tutta la boss fight se moriamo speciale l'ho colpito non so come energia mi serve energia no l'ho colpito è un lupo accioso come noi sempre energia stannazione mi dà la boss che è da morto la mia energia via va non è vu sapere non è vu sapere allora beh lo sapevamo che l'era forte così come dovemo far lo da capo vabbè il gioco ha un cuore c'è un altro si sapeva che l'era n'entangraziu sto cane qua il pianista oh che testa di cazzo ma non si può parare uno si ma bravo fanculo no perché fa tante cose Kratos ma cosa vuole lui ma io fa ma ma non potremmo tutta l'erdì cristo reus come energia mi serve mi serve anche la svelta niente madonna di cristo che minuto siamo? 45 e 20 30 dio fa madonna dai garmi hai rotto il cazzo no telecamera hai rotto il cazzo ma c'era la cosa lì allora garmi ascolta chiedo il coso per apparire bella dai hai levato quel danno qua dai molto bello dobbiamo aspettare un po' di più no no merda di cane di merda figlio di puttana aspetta 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 oh è rotta il cazzo no che cazzata la come evitato ma basta non ce ne fu più un altro maschio si vabbè vaffanculo questa cosa vai che che murente ma lei non c'ha ancora più dai 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 no 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 Madonna ma è rotto il cazzo togli sta cosa Cristo ma guarda per colpa di tre no è Destiny ' ascolta è rotta il cazzo dio cane maledetto Garm stronzone ma basta non si sa fare ascolta è rotta il cazzo la pietra la pietra vai mi sale è impossibile impossibile non è che cazzo fai gratos ai schermo ma non non agarmi maledetto pure capriolo lo so zun bella dai ferri questo dai 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 non rompere il cazzo maledetto no Cristo dio l'energia ah vai a cagare l'energia no tutto ora no oh stavolta no eh vai cosa succede eeeh fai vado sia mai cazzo lo decapitiamo un po' di ora l'abbiamo strozzato speciale l'abbiamo stronzato molto bene amori ammazzato oh calapiacani trofeo guadagnato affronta gara speravo che andasse diversamente l'era anche ora e se ora è morto talvolta non c'è altra scelta stronzune vai via del da elime ah mi da ancora il coso rosso bastardo un andiamo via atreus via da sto posto del cazzo e sono morto tre volte comunque mi sembra o due o tre volte vabbè sono morto lo stesso numero di volte del soldato di ferro prima quindi il soldato di ferro era forte come il cane qua come Garmo non ha senso chiaro a casa ora lo so chiudo il cuore un'altra porta chiuse le frecce sigillo sono inutile non rimane l'ingranaggio è oltre quella porta ci deve essere un modo per congelarlo vero non passa di qui mo uno scudo ispirato ai racconti scudo massacro premi doltre uno vabbè prendo uno scatto di scudo facciamo io prima che finisce questo gameplay vorrei poterle ho proprio idea di come ma il problema è che non va come faccio ok così non funziona possiamo i contrapesi da ponte per il ghiaccio tu no Sì Ah, ok, adesso Vai No, l'avevo fatto Ma come cazzo è? Oh, la Ma va a fare un culo, va Tre volte Mentre eri via Ho cercato le norne Mi hanno detto che ad Asgard Eimdall voleva ucciderti Eimdall? Le norne? Pensavo non ci credessi No Oh, madonna Ah, ancora vivo Che andavo? Via, via, via Via, via, via Una bella scappata Ecco quello che c'è Corri Quando si cade dalle scale Ma va, vantù Corri Corri Non ci cosa c'è più riuso Seleziona Via, via, via Assurda, per la prima volta Fuggiamo, frio Uh Che andavo veramente Proprio Oh, madonna Che cazzo Come? Che andavo? Che c'è? Che c'è? Tira la lancia sulla zangua! Ah Che c'è? Che c'è? Speciale Ah, brah, brah Culo Merda Ma non si è fuori da fuggire Giger Devo interrompere Volevo essere lei Porca mia Non si riusciamo a fare Un miracolo Prima della fine Ma non credo Dove dobbiamo andare Ma qua? Ah, di qua Ho scoperto Che con il caos Vado meglio Che altro hai scoperto? Che la fiducia reciproca Ci fa bene Via, 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 via Andiamo a tre minuti alla fine Ragazzi Niente da fare Devo stopparmi qua ragazzi Perché mancano tre minuti E se si va Se si prosegue Oltre Non riesco a fare Quello che devo fare Per questo gameplay Quindi questa era Ho sempre su più bello Devo stoppare Comunque questa era La ventitresima parte Di God of War Ragnarok Torneremo per cercare di uscire Da sto cazzo di Elime E sconfiggere magari Garm Chissà Rimate situizzati Iscrivetevi Io torno Presto Calmo Stai calmo Kratos Torniamo prestissimo Con Kratos e Atreus Ciao a tutti Via fa Ciao a tutti